Grazie a lei, consigliere Monano. Consigliere Corti, consigliere Corti. Consigliere Corti, consigliere Corti. Consigliere Corti. Consigliere Corti, consigliere Corti. Consigliere Corti, consigliere遠o festeggi. si torna per essere ratificati, oggi siamo qui per ratificare con l'approvazione della città comunale, quindi ecco in questi dimostri non è passato di nuovo in commissione, perché prima dei 39 è passato di nuovo in commissione, l'intera commissione è stata fatta di favorevole a quella decifera e nel momento in cui è passata in giunta non c'è più obbligo di fanno passare di nuovo in commissione, poi le commissioni, caro evitore, tu sei sempre presente nelle commissioni, non capisco il motivo per cui ti dici che le commissioni non sono varie, sono inutili, io sinceramente questo non lo scorda tanto, anche io dico che le commissioni stanno lavorando bene in un po', non ho mai visto che si perde tempo di questo tempo nelle commissioni, non lo scorda tanto, non ho mai visto questo, inerente a un po' lo scorda e l'Europa, l'organizzazione si tratta tanto tanto, ma sono argomenti che sono a parte delle commissioni, quindi chi dice queste cose, invito a venire in commissioni, anche faccio un invito, anche faccio un invito a Fiddy, e così siete che Fiddy hanno fatto questa proposta, di venire in commissioni di portare la loro, l'internetbole, della loro proposta in commissioni, infine passare alla posizione politica presa dalla Fiddy, io dico che in anche i suoi miei suoi miei suoi miei suoi miei suoi Bgun di, di quello che faccio, che è una posizione, sinceramente è legittima, perché si può avere una posizione del genere, ma non per un motivo per cui si possa saltare a fare una posizione, perché non sono stati presi dei piatti che avevamo uscito al punto che il PD io potesse spingere, anzi, tradire, l'alleanza fatta con il nostro sindaco, sindaco, e quindi mi sono dal nostro sindaco, caro sindaco, e ora invito ad andare avanti forte con le nostre elezioni e cerchiamo di dare le risposte che la nostra città deve prendere, perché tutti abbiamo voglia di dare queste risposte alla nostra città, noi siamo dal primo giorno che siamo stati elezioni, abbiamo dovuto adottare quella politica di stare vicino ai governi della nostra città, al di là, non voglio parlare da politico, ma da cittadino carsogiano, noi siamo stati oggi, mi sono disegnati, andiamo a trovare, andiamo a trovare, andiamo a trovare le elezioni, andiamo a trovare, possiamo andare tutto male alle elezioni, perché io sicuramente non sono stato legato alla fortuna, anzi, io posso stare benissimo a metterla da parte delle altre città, adesso non sono legato, però non sono legato a quindi, perché la politica non haなのでbri una scorsa che tutti cittadiniano da attento, ma prima, anche lì, parla…